Allora, stavo guardando una cosa, ho bisogno di capire un attimo. Coach Herve, da quanto è che è disabilitato? Dal 20 agosto. E quello da 14.400? Di follower? Sì. Sì, più o meno, in circa. Perché non provi ad accedere a Instagram e a vedere? Vado? Vado? Accendiamo? Daglie! Ce l'abbiamo fatta! Cazzo! Grandi, grandi, grandi! E vedere quei miliardi di mail. Ho visto, ho visto oggi. Guarda, giusto oggi quando stavano. Parto. Porca miseria! Che parto! Che parto! Allora, senti! Allora! Tion F Che parto! Che parto!